Ci saranno delle postazioni LILT con i nostri volontari dove faremo formazione oncologica e dove è possibile anche ritirare degli opuscoli sugli stili di vita e sulla nutrizione e sulle attività sportive che bisogna seguire, che tutti i cittadini devono seguire per ridurre e abbattere il problema dell'incidenza del cancro. Infatti con questi presidi è dimostrato che è possibile ridurre in 10 anni del 40% l'incidenza del cancro. Oshan il 18 e il 19 marzo mattina e pomeriggio secondo gli orari 10.30-16.30. Inoltre Campagna Mica vicino a Ponte del Mare il 25 marzo mattina e pomeriggio e il 26 marzo solo al mattino 10.30-13 Piazza Salotto. Questo fa parte di un complesso sistema salute chiamato dalla LILT di Pescara che coinvolge prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Quest'anno in particolare abbiamo iniziato già questa nostra settimana di campagna per la prevenzione oncologica nella scuola Media Pascoli dove abbiamo già fatto un primo step di formazione agli alunni delle ultime tre classi.